14 gare, 42 punti potenziali e solo 11 conquistati. Porta inviolata solamente in una gara, quella di Foggia, nella quale praticamente i satanelli di Marchionni non hanno mai scientemente attaccato. Il momento del Teramo è nei numeri, quelli che rivelano una involuzione senza mezzi termini della squadra di Massimo Paci, ancora inchiodata a quei 34 punti in classifica che in pieno mese di febbraio non sono più garanzia assoluta di qualificazione alla seconda fase del torneo. Vero che gli infortuni e le squalifiche ieri con il Potenza possono aver contribuito a dare minore stabilità al reparto difensivo, sempre bucato negli ultimi tre mesi, ed è proprio da lì, dalla retroguardia e dalle tribolazioni che hanno riguardato Piacentini prima e di Achitte poi, che potrebbero essere iniziati i mali di questa squadra, perché la gestione dell'organico ha mostrato falle inenarrabili nel momento in cui, con il vento in poppa, qualcuno ha pensato di poter disporre della rosa e dei suoi componenti a piacimento. Le ricadute sono state evidenti, perché nella fase in cui Paci sembrava aver trovato l'assetto definitivo, le scelte che si incastravano con mercato e rinnovi hanno incrinato equilibri sottilissimi. A quel punto il tecnico si è ritrovato a fare di necessità virtù, ben cosciente che i 270 minuti a partita, 3 under per 90 minuti, erano una cosa ineludibile per le finanze societarie. Ed ecco come si spiega, ad esempio, il cambio, che potrebbe sembrare paradossale di ieri, sull'1-3 tra K un attaccante e Vero un centrocampista. Al netto di tutto questo è altrettanto evidente che c'è un calo generale di forma e una sostanziale decrescita della convinzione dopo tanti risultati non positivi. E mentre prima ci si poteva attaccare al pareggio, a Caserta e Colpotenza sono giunti due stop dolorosi, specie l'ultimo perché il diavolo ha mostrato quanto sia involuto e fragile. Poi c'è la questione infortuni. Ieri Birlige ha accusato una ricaduta dopo 8 minuti nello stesso punto dove si era fatto male a Palermo a fine gennaio, mentre Luca Di Matteo, schierato per la prima volta, ha retto 57 giri di lancette. E questi sono due giocatori che accusano fastidi e intoppi, proprio perché non hanno ritmo partita, erano potenzialmente in lista di sbarco, ma il mercato non ha visto poi la loro partenza. Ora recuperarli significa dare loro un discreto e centellinato minutaggio, una volta rimessi a posto senza buttarli in campo per necessità dopo mesi di naftalina. Il mercato di gennaio poi non ha portato un vero e proprio attaccante, ma un giocatore offensivo come Chiere Mateng, che avrà certamente delle potenzialità, ma non ha, nella faretra, i gol che servirebbero a risolvere gare sporche. Poi ci sono i due giovani di belle speranze, come Bellucci e Lombardi, che non saranno certamente ancora amalgamati, ma che andranno pur provati prima o poi, e non solo in emergenza. Infine il modulo. Per mesi il 4-2-3-1 è stato un dogma. Poi è stato rivoluzionato a Palermo con un 4-3-3 che ha dato risposte e lo stesso Paci affermò come fosse un cambio indispensabile per dare maggiore sostanza alla fase offensiva ormai carente. Il modulo è importante perché col 4-2-3-1 eravamo diventati molto sterili. Col Monopoli dopo un primo tempo horror, dal 4-3-3 si è passati al 3-5-2 a specchio con i biancoverdi. Il cambio del modulo è stato positivo perché va col 4-3-3 contro una squadra così chiusa. Se non stai bene fisicamente e non riesci a produrre gioco, fai fatica. Ora, sempre Paci, torna al modulo di partenza perché così, dice, si hanno più varianti nel gioco d'attacco. Col 4-3-3 secondo me siamo molto più efficaci a livello difensivo, un po' meno efficaci a livello offensivo. Insomma, tutto è il suo contrario. Intanto il diavolo langue alla ricerca di un'identità che sembrava aver acquisito ma che è bastato poco o molto per fargli perdere. Se definitivamente, oppure no, bisognerà attendere le prossime 12 partite.